Quattro sono i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo su 1.521 tamponi analizzati. La percentuale rimane simile a ieri, 0,3% del totale, mentre sono due nuovi decessi che portano il computo complessivo a 402. I quattro casi di oggi si riferiscono tre alla ASL di Pescara ed uno alla ASL Lanciano-Vastocchieti. 2011 sono i dimessi e i guariti, più 42 rispetto a ieri, di cui 191 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 1.820 che hanno risolto i sintomi dell'infezione sono risultati negativi in due test consecutivi. 128 pazienti, meno 10 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 3 numero invariato in terapia intensiva, mentre gli altri 693, meno 32, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, guariti e dei deceduti, sono 824 con una diminuzione di 42 unità. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 71.788 test, di cui 65.303 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 245 si riferiscono all'ASL Avezzano sul Monal'Aquila, 820 all'ASL Lanciano-Vastocchieti, 1.518 all'ASL di Pescara e 654 all'ASL di Teramo.